www.srl.it Mi chiami Gianni Felice. Ho lavorato in un SRL di due anni. Mi occupi del tornio. Onestamente rotevo il mio lavoro. Ho varre svolte di Gambia Ajar. Di la via del Friul. Tu non tu vas di nessune bambi! Ma è il ma... Sì, o sei ma... O sei completamente svalinato! Ho volato. Ho volato. Ho volato. Mi sembra un nuovo arroganza cominciare un interrogatore con tutte le richieste. Se mi lasse... C'è, c'è, c'è! Io ti sbatti in via spalla e ti butti via la clave! Che ascolti? No! Ascoltimi tu! Io ti capo le spalle, faccio una tartare e le do di mangiare al gatto al questore! Non stai sottovalutando, amico! Con me basta! E ti racconti il braccio! Che tu mi metti l'ansia! Vuoi avere un'età c'è di oggi? No, grazie! Ho già avuto il sabone per lui! Che lo perdoni! Ogni tanto stiamo per la mano! Io sono venuto qua dentro di mia spontanea volontà e ho so chi per collaborare! Ma sai che c'è che il disarà potrà avere conseguenze disastrosi per la sua azienda, paesi e colleghi? Mi spazio! Non è un problema! Va bene! Hai altri altri? Se vuole, potete inviare un barco! Che ascolti! E potete finire con questo circo! Ho avuto massi film di puliziosi per non vedere i vostri trucchi! Puliziosi buoni! Puliziosi triste! Come? Come? Tu sei sveat, Giovin! Una volta sveat! Da me una roba, non tu hai capito! Che sa res? Il pulizio triste! E so io! Nina! 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 Aspetta un momento! Lasciami il vasco! Se non c'è, ti metti nessun altro cartone! Steve! Sono passato 6 mesi! Scusate! Mi ha sdiavallo rettine! Steve! Scusate! Voglio comprare tal mercato neri! Scusa Steve! Eeeeeeeeh! Ti avresti finito! C'è facile o come? Ti ho! Ti ho appena otto delle macchine scappate! Colore, modelli e segni particolari! Mi raccomandi eh! Grazie! Via al mondo rosso e scrivete da piastate! 25 mila euro le mie costate! E se non fostate per modeller che le ha chiamate su internet le verrà sbagliate anche i modi poi! E il diavallo non ci sarebbe prima di andare a dormire! Se no ti si stacchia il volo! O scugno il diavallo rettine! Ogni sere! Forte focus gris e slanerate! E sporche! Nina, passami il magazzino per la sera! Ti sei meglio nelle cabine telefoniche? Va bene! Va bene! Ho fatto degli errori! Lui ammetto! Ti hai fatto un volo neri! Va bene! Ho chiuso di portare le mie cosine! Va bene! Ma ho creduto che le vite mi vedi già punita a bonte per questo! Vi accendevi in chelotte ammaranto con la peglia blu pia! E' come! Grazie! Signor Paron, Ispettor Nauli, benvenuti. C'è rasse di ordine? Grazie! Mi resti in domi piccoli associazioni. Le robes verdes. I pistacchi che mi sgromfighi a Cerneli. A tu present. A tu present. E sarebbe tutto. Il sudore di una sorella. Il sudore di una sorella! Mi fa la furticazione! Forse... Ho dovuto superarmi. Tu sei praticamente guarito. Dì tu! C'è macchina di viso intestata all'azienda? Una carriera. Buona macchina, eh? E fa spiegare altri sene. Coste manco di ciò che si croda. Parce... Troppe cose costate? Sì, cinquanta mila. Cinquanta mila? Ho sessanta e vott mila. Siete cinquanta. Com'è che l'ha scritta qui? Le ricordi in inglese. Ascolta. Se non tu hai nuvi e c'è platà. Non ti hai sentito in colpa? Non è perché tu sei su. Ascolta tu! Io non mi sento in colpa. Neanche per un franco. E fate i cinquanta anni. Dunque... Parclase. Controllo i cons. E sparistica. Che l'ente ha di lavorare. Ti vi ho un tic nervoso. Non sei tranquillissi. Non si disarese. Non chiedi te. Fine primo round. Caffè tutto? Caffè tutto? Io non avrei capire perché ho vissate tante? Poorer di change. Pssh! Ha un po' sentito. Haille villi di nuovo qualcuno chi ha il calco. Più triste di nuovoraj! Più pericoloso di moleon! Piess! Di Un cobra! Piess! Ni alle più pericoloso di nauli. a conti che lo hanno chiamato in fase poi ha avuto un registratore di casse che è stata dotata di una caserma di finanza ti pare che le sue famiglie erano state sterminate di un evasor totale se l'entretetto fabbrica il lavoro ha perduto per sempre e perciò che ha avuto un po' di te non è un po' di te dove sta per? la narancia è già spiegata al cir di farsi perdonà? no, perciò, è stato anche mio ultimamente non sta fidati di che l'ompo è stato amante al... ha lei qualche dì? che mi svei, prendi Morbin di voi e di fa però? però... viale non è paranoia ma c'è paranoia sono numeri ma ti rendi conto tu hai di smettere di sgarfare e chiamare il tuo figlio numeri non scrivo mai numeri mai com'ò calmiti sei all'ora in lettere e io sarei paranoico calmiti rispira e la voglia di morarmi proprio te com'ò con te chieste a mio alle queste del ponte libero tu non puoi dispermettiti di morire non so 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 ma c'è l'inquisizione il KGB ma c'è adesso deve portare dei microfoni come sì sì rite rite ho vesele ai masi libri di spionaggio ci molti sa meno i commons beh no ma non si può mai dire perché sono momenti difficili che occupano aziende poi guadagni tante tasse e la tentazione di farlo in area è grande oh no c'è tu che ti dici Lo sai, lo sai. Ma vuoi altri? No, mai. Ah boh, se non è colpa a me, se siete in questa azienda. Lasciate il mio cinghiale. Oh, rilassati. C'è fatto di un cinghiale di plastica. A fare sbagliare, ha un riguardo importante. Un riguardo di cui? Ma l'ha regalato il mio figlio. Ah si? E non la cagliate con tre. Allora, ho lavorato lì di un bensinaro. Garzón di un negozio di vestiti e... malgaro. Ma dai, un lavoratore eclettico. E per troppi? Ehm... una giornata, due o tre. Dome. C'è molto male. A erin i anni settante, o erin puars ma biei. Ovevin il futuro, denanda i nestri svoi. E so redut, a si podeve fumada pardut. E la è planca, le due tonveri. E passiamo? Un bielo petonaro. Un litro di lab fresco. Ops! Oh no! Ti rendi conto? Hai qui neppure una macchina di una macchina. Alla miglior se non mettiamo queste esperienze dentro. Ma non vengono un po' schiarniti così. Alla miglior focalizzassi, fiditi. Speriamo bene. Se per casa avesse indizierà l'azienda mi toccherà... Reinventami. Tu pazzini, allora tutto bene. Alla dame un controllo. Ho vinto di fidarsi dal barone. Il prossimo! Quale è il topore più grande? Che mio figlio schiampi in casa. E perché è tornato a stare con te? Perché stavi male? E allora? È normale che appena che tu hai un'olme di benestà... ...gianni alciri di schiampare. Non esiste al mondo un uomo di 37 anni... ...mentalmente trisanghe e sessualmente attivo... ...che volessi passare le sue vite con un vecchio fulminato come te. Tu hai ragione. Lo dici per te, eh? Lo sai. E allora chi ha per le tue vite per i coglioni? Torna a patire come una bestia... ...se no tu hai voglia di passare il resto della tua vita di besol... ...a sbavare in una casa di riposo straffata di pillole. Mi fa sbeng fevelà con te. Vieni da io due delle aziende... ...ma una regola come questa... ...la legalità e le vostre ragioni di vita. Che dopo... ...l'usavinducchio... ...colberdei burocrati in Calais... ...ha il fuorpoeste assicchiato sempre... ...ma qui neanche una virgola fuorpoeste. ...ha una precisione quasi sospetta. Buongiorno a volte a voi a casa partiamo. Ma sarà contenta la mia femmina. Mandi! Mandi! Mandi e grazie! Mi sa che a chi ha vim bisogne di un'e biele ranghinate. E vi passate tutte le notte a cercare i documenti. risultati... ...son 24 ore che non durano... ...36 che non mi fanno una doccia... ...40 volte che non vio la mia femmina... ...che quante scuvergerà... ...che un mone... ...ha la rota e la sottace preferite... ...mi domandarà la separazione. ...te convenve al di interessanti dinos. ... 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